anche voi femmini non te mi chiamo che gili luoghi spalle non è vero C'è un po' di più. Avopra, pasto, cola. Bittes, girin mangetesano pre, weil es girine, es girin mein Daumen, weil es girine, ok, irgendwas. Irgendwas. Queren teilen, 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 giudizmo del tambahtali, sogo di jene. C'è mich toka naveno pre, jene, semmeraf, canassi, impfo, mindika, venopre, bachtalo, diessa, bachtales, dellodri, david, duke. Sima, impfo, akada. Fö, pasto, cola, mit Beweisvideos, sima. Mit alles drauf, mit alle Schikanen, von A bis Z, sa, sima. Das Problem ist, tu me lento me emmanushe, sa, mit de falsche Persona, e que ren politica manza. Muwe paposa, tu me chian, incontzi, muwe papo, buian, lesa, zuma, vente, kele, tu me muwe paposa, pasto, cola, zuma, veste, queres, cheshtuki, a te keres, a te krin, chis. A me san manushe, chaché, a me ci san manushe, kai hojavas, kai boldas, kai keras. Tambahtali, sogo di jene. Mida laman do info, karen teilen, pite, jutilti modell, bisten teilen, emida penafsasusi, mit live, mit gadaal, videos, Beweisvideos. Karen teilen, teilen, teilen. 1-2 minuten. 2-3 minuten. Sala sa av, sa av von A bis Z, amare Telefongespräche, amare Bayurak, vikana ma aras varikas, hai te dam shurihan da godol jeno, vi godol as av, ta velabi. Bahtalo taves Yurko Goldmann. Mi sto shunen ma skidenen mange feri ya, ga un i var cish yunjo, ka nasi o Telefonupe mesadis, skidenen mange ja oder nein. Sa av einwand frei. Bahtalo shoguro. Alla prossima! Non mi senti a parlare di questo in strada. Mi senti a parlare con il sardo. Se ne mette le rompistano e con lui ragazzo, mi senti a parlare di sardo. Non mi chcia che fosse qualcuno, ha fatto fuori a se... come... o cosa vuol fare con i calcoli? Ma è proprio il glielo? Si siamo arrivati a parlare con il sardo. Ti viene fatima, vieni a parlare di Michael. Mi senti a parlare di un uomo, I canna joccia bel varicone, la fa si cavabbate, tu chowaddi, ich zeig das. Meshala va av, wenn tu gelogen hast, dann teig ich di tu has gelogen. Ma si cavabtu ke, man zima video, katar godo gespréjsh, ge Kruppen anrufsa, ha hi oppressima zvime, a chundem sa pa cola, hasta cola, sasso vorbindan murripaposa, karamekabless, hai lana è pendat murripaspala, mi amicavtumenge. Mughopapo vorbindan palabori, appushe lasky e buri, Sosie, Kamasa Maraboura, Mia Shurentza, hai tu peres, che tu vorbindan muge Papoza, hai bilis muge Papoza, te perabez, ali hachana tu peradan, tu sanno ho chokhamno, gada a sar kai penda hai Fatima, muge shavoghe te meren rakate baronnetrin, ke boldino san ho chokhamno, jane, soker da tu kandokher da, muge gom, ya vila tu mende, te star panchona vila, palemek lama, ke zamek elma, muge gom, ya vila tu te andokher, vaikai tjojamuto, tjena avkazezaz, hai lat, hai kushla tu, vila tu rischi, hai ke bilis, te schostu andalati, hitler, kakana tuse menza lelpe, nanosa, da desa, peso de lelpe, manza, a charrento begadokke hitler, kakotisho, ya ma uninteressant peigadok, a kana mekavtukke pastor, ke chokhamno san, chokhamno, mai butwort wiederhema, du bist ein Betrüger, ein Lügner, chokhamno asjes, offiziella jes, ke chokhadan pemro papo, ena lecholai fabrike, godo lemdes meh auf, hab ich auch aufgenommen, ich nehm alles auf, jede Aufnahme kann a vena an de kris, denk tu me gindo, so penen, zarkrinchin, zarkeren, aber das dritte Mal pennaftu mege, ich hab alles aufgenommen, von A bis Z, jeder Telefongespräch, jede Hintfahrt, zassima, sa laftu me, jedes Mal auf, ke me janav, ke gerne boldelo, man usbolden, a krinchin, a keren, an go laf au, daftu me te chan, a kana, skavavtumenge, a den Tisch und denne Cola, lesko info na, ke vorbindamurhe paposaem, wo papo mangelas, scheidung von vier wochen mangelas, ein a ebola, er wollte penda ke chisholpan, dega dadal jeli, ke vosi pastorin, bare jeli, hei, taftu me, pastoro. Hei, taftu me, a kran, xosima, abspielen. Eta, vudzin, ne bobers, ke de du ischongratar mui vomi, das vafo zwei monate. Eta, pasto kola. Sì, è vero, è vero. La Chardana. però non. Ma perché vuoi? Perché. C'è giallo? Perché non deve consumare un galle, un galle, un teoriano. Non c'è un galle di fare. Non c'è ancora un galle. Non il che ci ha fatto un galle di colpo, non c'è il tessere, però non. Perché non c'è chi? Perché, non c'è un galle già accanto? L'argo, non c'è mai bisogno di perdere. Oggi ci dà domani, stai fatti una cosa che dà il bambino di fare l'alati. Credo io, puoi la pe la macchina, facci la macchina che dà domani. No, dèbola che non è stupendo quello che ci perdono, che ci muore. Eh, no, cosa non è? E quando non ha detto che mai vanno il telefono, non è. Un bambino. Cosa? quando ti ne mamano numero volvemmo palicino azzurro 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 Si. E ricordati. Si. C'è. Cosa che c'è? Cosa che ha le dimostra, che ésальное? Qu'est ce ma non, no? Voglio venire, voglio vedere un'altra cosa. Non? Da me wraccio dentro ma se parla dove ci vedi tutto. Cosa cosa significa? On si sta a vincenni? Ma mi say, non si la fa, si stai a vincenni? Non è quello, ma non si la vincenni e la vincenni? Il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito. Non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ora c'è nessuno, l'istage è possibile de sn adventures". Da si le ne vedi dalle Gefängili, non c'è nessuno, per ma guardia dallen dels nostri prezzi. Bon dia tiene marriages, non c'è nessuno,pois e una brani. Votreyorum o parliquass见 carreira e he testo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non sì. Bis 5 uo morgonzo. Bis 5 uo morgonzo. non si fosse un discsino che fosse il genere non si fosse un ottimo, appena loco si fosse un'azimento, un'azimento, un'azimento una cosa che Roadrun mi era meno come dire non si era in quanto sei lui se fosse un lato di sottolineare non si sembra questo si è una persona che ha avuto non si fosse un solo maculto 21 ore non si fosse un bel Silvio sì, allora non si si fosse un costero Sì. Non è un po' di più, non è un po' di più. Il mio nome è un amore che mi ha parlato e ha detto che ti sono chiusi. Io non ho detto che non mi ha parlato di un telefono. Non, non. Non c'è un uomo? Non c'è un uomo, non c'è un uomo. Non c'è un uomo. Ma non c'è un uomo. Non c'è un uomo! Non c'è da un uomo. Non c'è un uomo che non ci ha detto che il amore qui si non era chiamato. Non c'è un uomo. Non c'è un uomo che era una nuova. Ma non è così, ma non è così, non è così. Non vi ne vedo. Non vi sono a tramite 7 minuti, con un mio tuo angelo, i miei dico, passate a collo, mentre stiamo spostando qui, non vedo il mio potevo, non vedo il mio potevo. Vi chiede via con le nascita, а해약o Fatima? Perché Fatima non sta. Trazie a lei, non sta. Non è un po' di prende. Con quello di Fati ma. Siamo già con il mio potevo, si stavano a capirà di Se l'acqua, la chiamata Adriano. Se non siignano di tutti i vostri nomi a sapercivali. Questo è il rastro dell'acqua colpita che ti smarrò di farcivali. Non, cioè se non mi avessano che avvivaci, se spiole a te le hanno una cerceppa... ...si oltre la名 sa comincia, non lo so ma non lo so ma non è la merita... ...cos la merita è la cercezza, non lo so. Siamo dicendo che ci siano. Siano. Non vi chiamo come la commentate. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla, 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 non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla, 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 non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. mi chiedo a te. Sì, per me. Versprichare mi che ieri ai studenti e che ieri i bambini e prendere i bambini? Sì, ho un rapporto di Polizia, tutto, se sei che sono stati, io non posso andare a casa. Versprichare mi questo? E per me, ho il suo figlio, e spiegare mi che ieri fuori e non arrivare a casa. Versprichare ieri, mi faccio direttamente in la Sveglia. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Pellende singale, le cantano, un po' di 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 uno. Mi vedo, c'è via l'acusine, e le cantano, le cantano non è la mano, qualcuno dice come se c'è qualcosa differently, non il miro, non ci l'inamos diferença per il po' di un po' di uno. Il abbiamo bisogno di di Hitler! non è vero Non, 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 non. per questo non è stato un uomo, non è stato un uomo. Ma è una uomo, Papa? Se ci vuoi fare, non è vero, non è vero. Non c'è nulla, non c'è la Bibli. Voi dire il vero. Non è tutto quello che vuoi, non vedi la Biblioteca. Non sopra il messaggio, non c'è più che dà questo, non c'è più che ieri, non c'è quello che ha detto. Non c'è il mio papà, non c'è cosa fare, non c'è il gioco. che come l'ho lì teccherell. Sogacchi gelapai muo guo papo vorba che mardava ricaz, vai si chulaco rom, muo guo papo si pachaco, manoush! Hai nabolde pastor ora! L'estai bolde sapere sonai. Hai vipo kakokajic. Vont si lasse pachaco e lasse manoush. Hai muoge shavorete merengadassasar che hai penda a denti, muoge dei, che lei, che hai penda mange brecci, che hai penda mange soski klingel, che er klingel, hai già paieric, hai già ande auto. Muoge trin shavorete merenghi. Alla di clem che ciputren, che godokajelim auffe klingel, godonasso amfang. Das vatti, mitte! Di clem so gilpe, roma, schenarie, angla, vudarei, gelem kotelim auffe. Che me sa gienelaf auffe, ich nemm alles gerne auffe. Che nello, pastoro, okola, che di clem pal felestri le che io gai pa cibale. Hai darai le, che ne le felestri. Che un pego dai riga, nai tu me felestri, muoge chaveta, valentino, mettaf tu me. Valentino, etalo, kakosi muoge chav. Di clem lese. Di clem lese. Eta, VJs del, tu me l'ha schon mera fan da tu, Valentino, tu bist nummer eins. Dic, ci cacafrizeri chingerdanles, boi le datu? Cacafrizeri chingerdanles, deochtok urke Fatima, Ale tu, loki, kerestu ke mugigomi kerel peske. Mugigomi wunji shol peske. Mugigomi shol peske. Solarium, peske wuschpa le laschardas. Für das hast du Zeit. Aba ce bares chaveta, queres pflegen. Ten grez les kai friseri. Dafür hast du keine Zeit, na? Penna kana. So saskana, sas o papo bujan, telek. Cont sas o pre. O da de temerell. O cipi opresas, o papo mašo opresas, o Nina opresas. Mugigomi sas o pre. Sa opresas, no? Sa opresas, no? Na sfere Nina, sas o pre. Kena kodat. A na so mašo pe. Kena je vo šeftari. Pesas Erek. No, opresas. No, opresas. Šunen tu me gado, tu me betryga. Ska. Ja, ane godoche kama sa stelaficarec. Naa, ke jalejski godjigogja vello, hai she jale, no kak. Mi keveli soko vaš te poša fe bistrdem, kais? Soko vaš te poša fe bistrdem, temgeravo maler, iertonena, ane gao du barou, katas fi, bababam, mirav. No, anta. Na po edo per manjo. Soka beza. che cosa stai a noi e parla che il coraggio di Janel ti tratta di un mio bottone per le donne che diventa schon in Janel le informazioni di tutto quello che vuole in anglio che cosa stai a noi e Janel sei tu che parla di venire che non ti sia capace che non ti sia viva e ragazzi che ti sia a di aiuto che ti sia un po' di niggere che si è un'Africa Si lo dice, non si può essere africano, ma specialmente in cui si della storia... Non c'è infoga che accettava Fatima, aiuto o Macho e aiuto. Come diverse. Con il suo successo, come tutti dall'inferno. Quindi non venga a daresi, non vengono a andare a fare la bambina, e non vengono a andare a vedere. a come Thailand, l'ho dono a poi uccorrere la mia apposta, in questo modo, l'info dice che ha avuto un po' quella che ti dice, hai chnectato a Henry, non è che chianti, non è che tu veni, è il suo adolescente, ce tu hai chnectato a cercare la mia qualche esolazione, che non sei sapeva gli occhi, ha detto in questo modo, la vita mi ha trovato, non c'era una ragazza, non ma io gli tutta, non è proprio oltre a��llo, ha detto che ti dice, la nediera, la perda del mio figli, gli uccomi da nedi? La nediza, l'affricano, non c'è la massa ma quella che c'è l'Africano la marina ma canano no besti ti gianna il piccili me è ando care me c'è la piquemma show e piccili me è tolata hai tu fatimo che hai cushe smughe dades mangamang e pacif katasale rom le purè che si operai e restate cushe la vivo e del boulè mangamang e pacifale musha te penas e bori che barri la mande deshustar berg biri il muore dades te kushell muore romes te kushell man te kushell andasoste soskishtuka kerndan tupe muroshaf che i vorbis le saposhof chassura hai dan l'especna hai dan l'especna hai del tacharell kevoi kamel tu vazolta soskishtuka tu kerndan vassolhie laofen shnella vass vinstu vassolta kushell man so dine narrachi sa chedadezke no me sa chedadezke sa chedadezke e kodal giungale vorbi kai penala seiuta pal carate ercinta vien bachtale kai penav gomali kai sen mai purè sa tuke mašo andu muite mekem pe le negera kai zonzo piki limesan kasanestu te o burdelu andu kera be gom sam hai vitu san gom vitu tu nahal cinto kak keres cinto sando kastin tu nyo ale barilan andu gom che kak vistime pastora hai yed esmalka da chesha kushen a chire jeli ma bare chesha yang jeli chijinez chienina kenina mi zil kevoi paholanda mugu bravo 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 marcellina izomu kvick china wkonsan ma iu pagolini kerel kakame snino kaisitopapkeek janestu naka e penav gompe tuteke pirda palatut e penav gompe tuteke pirda palatut e penav gompe tato papkeek mishto dosda salingando a mui ok ok alvitu fatimo janestu kemu ge emra yare sen na janestu e koghte banjol tutar patrin jays kodokino so reslamu koghom letrin hertsen fakte te lille chodat quando c'è beneficenza? Quando c'è il vostro ragazzo? Si. Il m'entra di dire, non sono molto fuori quando un'immagine Iniziamo che faccio il bambino il cittore che non sono più si prevedete il bambino ma che voleva un errore quindi vi colere il bambino che veniva bene Non c'è un po' di più, non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. Non c'è un po' di più. Non c'è un po' di più, non c'è un po' di più. 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 Non c'è un po' di più.